Buonasera a tutti ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News dunque la Juventus ha conquistato il suo nono scudetto di fila è stato un titolo certamente più sofferto rispetto a tanti altri anche perché c'è stata l'interruzione del campionato e poi la Juventus si proponeva in un progetto non del tutto riuscito ad imporre una nuova filosofia calcistica con Sarri in panchina. In ogni caso e mi rivolgo a Raimondo De Magistris la Juventus si è dimostrata la più forte ed è stata evidenziata ancora a una certa distanza nei confronti delle dirette inseguitrici. Ciao Lorenzo buonasera nono scudetto consecutivo per la Juventus che ieri sera ha battuto la Sampdoria 2 a 0 e con due giornate d'anticipo si è laureata per la trentasesima volta squadra campione d'Italia. Una Juventus che non ha sempre convinto l'ha messo anche Maurizio Sarri nel post partita che però ha vinto grazie alle sue grandi individualità. Sarri nel post gara ha detto se abbiamo vinto questo scudetto gran parte del merito va a Paolo Di Bala e Cristiano Ronaldo che inevitabilmente anche nelle nostre pagelle risultano tra i migliori di questa Juventus. Sono stati i veri trascinatori di questa squadra magari non hanno giocato benissimo insieme ma hanno messo in mostra grandissime giocate soprattutto tantissimi gol che poi alla lunga hanno fatto la differenza. A questo bisogna aggiungere una buona difesa non la migliore della serie A però sicuramente elementi positivi dalla retroguardia sono arrivati. Uno su tutti Mattis De Ligti il grande acquisto della scorsa estate che ha faticato a carburare nella prima parte qualche errore di troppo però poi è stato di fatto un leader insieme a Leo Bonucci nella ultima parte di campionato. Qualche dubbio in più invece sul centrocampo e qui tante sufficienze. Miralem Pjanic che andrà al Barcellona ma anche i nuovi acquisti i parametri zero. Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Da loro ci si aspettava molto molto di più e invece è stata una prima stagione particolarmente travagliata soprattutto per il centrocampista gallese. Entrambi saranno chiamati a una conferma il prossimo anno la certezza e che anche il prossimo anno la Juventus sarà campione d'Italia in carica. Grazie Giovanni Albanese come dicevamo in precedenza la Juventus ha cercato di imprimere una svolta dal punto di vista del gioco in questa stagione. Non tutto è filato liscio il progetto non è decollato del tutto comunque ci riproverà sicuramente la Juventus nella prossima stagione sempre con Sarri in panchina. Sarri che ha fatto discutere con le sue idee e a questo proposito abbiamo sentito il parere di una grande tifosa della Juventus come Mara Maionchi. Sentiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni. Devo dire devo dire la verità non mi ha entusiasmato. Credo che quest'anno forse delle squadre assolutamente che sono una novità nel campo calcistico avrebbero meritato qualcosa di più. E su Sarri il tanto criticato Sarri che idea si è fatta? Ma io devo dire non è non è però sono poco troppo poco conoscitrice del gioco per poter dire che Sarri non mi piace. Lo trovo molto difensivo e mi piace. Dovesse portare il calcio spettacolo? Beh devo dire più divertente. Il calcio spettacolo è più divertente. Sì ma Sarri doveva portarlo lo spettacolo? Ma non ha portato. Credo che questo anche non essendo conoscitore direi che si può capire. L'ultima considerazione sulla Champions visto che comunque la Juventus ha questo obiettivo? Beh devo dire un obiettivo serio perché tanti scudetti ma questa Champions ci manca e devo dire che devono assolutamente concentrarsi su quello. Però la forma in questo momento lascia qualche perplessità. È modesta. Speriamo nel diciamo che speriamo nella concentrazione che è assolutamente necessaria sull'allenamento sul fatto di essere convinti di farcela. Servirebbe una scossa lei se dovesse entrare nello spogliatoio e cosa farebbe? Cosa direbbe ai giocatori? Ragazzi forza forza ragazzi su dai piantiamola di rompere le scale. Giochiamo giochiamo che è sempre vincente giocare. È anche più bello voglio dire vederli. Nel frattempo l'Inter con la vittoria sul Genoa è tornata al secondo posto in classifica e allora come potrà essere valutata questa posizione se dovesse essere mantenuta fino alla fine del campionato? Come potrà essere giudicata? L'abbiamo chiesto a Fabio Galante grande ex dell'Azzurro. Ma io innanzitutto dico che l'Inter deve sempre ambire a vincere qualcosa. Un secondo posto può rappresentare una partenza per gli uomini di Conte e per la società. Chiaro che quest'anno vista come è andato il campionato, vista una Juventus che non ha brillato come gli anni passati sicuramente si poteva approfittare un po' di più sia l'Inte che la Lazio. Diciamo che la Juventus delle volte ha dato la sensazione che poteva essere anno buono per le altre squadre di vincere il campionato. Così non l'è stato, l'ha vinto ancora la Juventus. Io penso che l'Inter deve ripartire da questa base qui. Il secondo posto può rappresentare, come ha detto Conte, al di là del migliore dei perdenti come posizione. Io penso che l'Inter il prossimo anno deve mambire a vincere lo Scudetto. Quest'anno arrivare secondo, terzo e quarto alla fine è uno stimolo in più, arriva secondo ma la sostanza non cambia nulla. Io credo che l'Inter per come ha iniziato il percorso già con Spalletti, anche con Conte continua ma il prossimo anno insomma deve puntare almeno a vincere il campionato. In questo momento secondo te il gap con la Juventus quanto è grande? Sicuramente c'è sempre un gap perché l'ha detto lo stesso Conte non si recuperano 25 punti da un anno all'altro però è anche vero che insomma la società prendendo sia lui che prendendo tanti giocatori ha fatto degli investimenti importanti. Io penso che l'Inter abbia tutto, ha tutte le carte in regola per veramente iniziare un ciclo come ha fatto la Juventus. Io sono molto fiducioso per questo, conosco bene il direttore sportivo Osilio, conosco bene Marotta, conosco bene tante persone della società e io credo che che c'è tutto per aprire un ciclo perché perché deve essere così. In questo momento si pensa tra le altre cose anche ad acquistare definitivamente Sanchez che si è rilanciato in queste ultime partite dopo un avvio con l'Inter non certamente soddisfacente ecco però il costo del cartellino è abbastanza elevato tu che cosa faresti comunque considerare questo giocatore potrebbe essere utile anche per l'Europa League? Ma è chiaro che quando sei un dipendente della società guardi tantissimo l'aspetto economico per far quadrare i bilanci io se dovessi dire la mia su quello tecnico dico che Sanchez ha dimostrato tutto il suo valore quando è stato chiamato in causa ha fatto vedere le capacità che ha ecco io penso che Sanchez può benissimo numericamente parlando far parte del pacchetto offensivo io credo che che con Sanchez e Lautaro Martinez e Lukaku è sposo e molto giovane però ne mette un altro dentro con il reparto offensivo si è a posto quindi io Sanchez dato che è stato anche un anno di ambientamento un anno particolare per tutto quello che è successo io credo che un altro anno insomma se lo merita. Domani sera tra l'altro grande sfida per l'Inter contro il Napoli a San Siro che aria si respira intorno alla formazione nerazzurra Alessandro Rimi a te la parola l'Inter si gode gol di Romero Lukaku ben trovato Lorenzo buonasera prepara la partita importante per congelare il secondo posto velatamente l'obiettivo fondamentale all'inizio della stagione è ridurre il gap quanto più possibile con la Juventus e poi la società sta lavorando chiaramente con lo United per la possibilità di trattenere Sanchez ore molto importanti che vanno evidentemente poi a inquadrare il periodo che va dopo no Inter Getafe e quindi poi il resto eventuale della manifestazione della competizione dell'Europa League si sta cercando di capire dove e se è il caso di lanciare in prestito i gioiellini in casa interno esposso da una parte e lo siano come dall'altra con forti interessamenti in Serie A e non solo e poi uno è stato anche blindato come di Gregorio portiere che sta facendo molto bene in Serie B con la maglia del Pordenone e insomma poi preparare la partita contro una grande squadra che è il Napoli di Gattuso ed è la partita con grandi ambizioni in questa stagione cercheremo chiaramente di capire anche le formazioni la formazione fondamentale per domani no sappiamo che Lukaku avrà ancora una volta come partner l'autaro dal primo minuto Eriksen tornerà alle spalle dei due attaccanti quanto ci sta pensando vuole ovviamente congelare questo secondo posto. La Talata comunque sogna ancora il secondo posto in classifica la squadra di Gasperini è reduce dal pareggio con il Milan è chiaro che la testa è anche proiettata verso la Champions però c'è l'obiettivo del secondo posto alle spalle della Juventus e allora ci dice tutto in collegamento con noi Patrick Iannarelli. Sì ciao Lorenzo buonasera a tutti l'Atalanta vuole continuare a stupire in questa stagione davvero incredibile per la compagine orobica c'è un secondo posto da raggiungere anche se bisognerà battersi fino all'ultima giornata come è successo poi lo scorso anno la Champions League è stata raggiunta la qualificazione della fase a gironi è arrivata con qualche giornata anticipo ora c'è questo posizionamento da poter raggiungere sarebbe veramente qualcosa di storico per la squadra e per la città di Bergamo c'è anche il record di gol 100 questo è l'obiettivo che si è posta la squadra ne mancano quattro tripla cifra qualcosa davvero straordinario come abbiamo già detto roba di altri tempi però la squadra di Gasperini pensa anche alla Champions League c'è la sfida del 12 agosto con il Paris Saint Germain sarà una partita davvero proibitiva almeno sulla carta bisognerà vedere le condizioni di Mbappé dei vari campioni di Thomas Tuchel ma l'Atalanta vuole giocarsi la fine alla fine vuole cercare di fare un'impresa davvero incredibile quella di andare in semifinale bisognerà vedere come arriverà la squadra sicuramente Gasperini cercherà di dosare le forze poi ci saranno 12 giorni di riposo dopo un periodo davvero estenuante prima c'è il Parma poi c'è l'Inter e successivamente si penserà alla Coppa dalle grandi orecchie il sogno europeo continua ma c'è ancora un posizionamento uno storico secondo posto da poter raggiungere vittoria sonante quella di ieri della Lazio con il Verona un 5 a 1 che ha riportato alla rivalta Ciro Immobile che con una doppietta è riuscito così ad agganciare Lewandowski nella speciale classifica della Scarpa d'Oro ci sono adesso ancora due partiti a disposizione di Immobile per superarlo Lorenzo Di Benedetto Immobile è pronto a scrivere un'altra pagina importante per la sua carriera Sì ciao Lorenzo e buonasera a tutti Ciro Immobile ha messo la freccia tripletta del Bomber della Lazio nella sfida vinta 5 a 1 dai bianco celesti contro l'Ellas Verona e adesso Ronaldo è a meno 3 nella classifica marcatori complice anche il rigore fallito nel finale della gara Scudetto vinta contro la Samp tornando però a parlare di Ciro Immobile adesso i due obiettivi sono veramente molto vicini per il Bomber della Lazio perché è a meno 2 dal record di reti segnati in una singola stagione in Serie A da Gonzalo Higuain che stabilì questo record con la maglia del Napoli e soprattutto ha riagguantato Robert Lewandowski in vetta alla classifica della Scarpa d'Oro 34 gol di Ciro Immobile 34 gol anche di Lewandowski finissero così le cose però sarebbe il Polacco a portarsi a casa questo trofeo personale perché ha giocato meno minuti rispetto a Ciro Immobile e questo è il criterio che stabilirebbe il vincitore in caso di arrivo con gli stessi gol fatti Immobile però ha altre due partite la Lazio sicuramente lo metterà nelle condizioni di fare questo gol per la Scarpa d'Oro ma di farne magari tre in due partite per superare Gonzalo Higuain e questo sarebbe veramente un traguardo eccezionale raggiunto da Ciro Immobile Ieri era una giornata fondamentale per il Lecce in chiave salvezza ma la formazione di Liverani non è riuscita a raccogliere neanche un punto nella sfida con il Bologna un K.O. pesantissimo e a questo punto il Lecce vede la Serie B in collegamento con noi c'è Dennis Magri La vita di Bologna obbliga necessariamente a un vero e proprio miracolo sportivo e Lecce che per raggiungere la salvezza dovrà necessariamente vincere le ultime due partite di campionato ultime due partite di campionato contro due squadre che hanno già raggiunto il proprio obiettivo stagionale Udinese e Parma ormai sono salve e quindi servirà a ottenere il massimo perché un'altra sconfitta vorrebbe dire retrocessione elettromedica per la formazione di Fabio Liverani quindi servono sei punti ma allo stesso momento un orecchio dovrà andare per forza di cose alla partita del Genoa di mercoledì ma anche a quella del prossimo weekend perché un'altra vittoria del Genoa vorrebbe dire retrocessione del Lecce un'altra vittoria dopo quella ottenuta nello scontro diretto di una settimana fa dove il Lecce è caduto 2-1 allo stadio Ferraris quello forse è un po complicato i piani in questo momento sono quattro i punti di distacco fra i Pogliesi e i Liguri cinque se si considerano anche gli scontri diretti a favore di Pando e Veccompagni quindi servirà un vero e proprio miracolo Liverani spera di poter recuperare per la sfida contro l'Udinese Babacar e Farias due attaccanti che sono mancati tantissimo nel corso della stagione e che erano stati convocati anche per la sfida di ieri contro il Bologna di Mijajlovic poi entrambi sono finiti direttamente in tribuna non sono stati arruolabili e adesso si gioca il tutto per tutto il Lecce quindi magari servirà anche un 10-20 minuti del contributo dei loro attaccanti per provare a compiere un'impresa un miracolo sportivo nel quale però il Lecce continua a crederci. Il Torino si è salvato matematicamente ieri con il pareggio con la spalla ma è stata una stagione da dimenticare per i Granata che avevano tutt'altre ambizioni del Torino abbiamo parlato con Fabio Galante che ha vestito in carriera anche la maglia proprio del Toro. Ma sai poi ci sono le annate dove è ripartito con un allenatore poi c'è stato il cambio forse anche il cambio non ha portato tanto quelle cose che forse la società si aspettava c'è stato anche il cambio del direttore sportivo cioè ci sono stati tanti un po cambiamenti in questo anno del Torino alla fine hanno raggiunto l'obiettivo minimo di una salvezza un po un po sofferta io penso che comunque Cairo abbia tutta l'esperienza per riportare almeno il Torino dalla parte di là della classifica della colonna perché voglio dire è una società importante come lo è il Genoa e quindi io penso che sono due società che devono ambire a posizioni più importanti in classifica anche per fare insomma dare delle soddisfazioni ai tanti tifosi che al Genoa e che al Torino. Però a proposito del Torino la piazza rumoreggia vuole una nuova proprietà ci sono stati striscioni ci sono state contestazioni nei confronti di Cairo potrebbe essere davvero arrivato il momento in cui l'attuale proprietario del Torino potrebbe passare la mano ma conoscendolo non penso conoscendolo non penso sono il presidente un po vecchio stile come Spinelli che 10 15 anni che dice che che prima o poi andrà via sono quei presidenti che hanno grande passione hanno hanno voglia di far calcio poi ci sono le annate che vanno meglio quelle che vanno peggio è chiaro che che i tifosi non sono contenti ma io credo che Cairo se rimane farà di tutto per per accontentare il tifoso comunque per portare più alto possibile la la società del del Torino calcio. Adesso apriamo il capitolo dedicato al Benevento che si è guadagnato dopo una lunga cavalcata la promozione in Serie A il Benevento di Pippo Inzaghi che si sta già muovendo per rinforzarsi per affrontare al meglio la Serie A un primo acquisto è già stato messo a segno il Benevento ha deciso di puntare sull'esperienza di Glick una vecchia conoscenza del nostro campionato ha vestito a lungo la maglia del Torino è un classe 88 oggi ha sostenuto le visite mediche a Roma e si è detto molto felice di poter tornare a giocare nel nostro campionato e allora andiamo a vedere e ad ascoltare le parole di Camille Glick Ciao Camille Ciao Camille Ben tornato Siamo ai saluti di questa ricca edizione del TMV News ci ritroveremo domani con altri pareri illustri interviste interessanti tutte da gustare grazie per averci seguito buon prossimamente di serata